Noi andiamo avanti, quanti ospiti oggi nella versione natalizia del Provenzano DJ Show Non abbiamo detto nessuna cattiveria a nessuno, Provenzano, com'è possibile questo? È strano, è strano, Manu, però dai, adesso ci impegneremo dai Ci sfoghiamo adesso con Sergio Mauri, tutti a lui l'abbiamo tenuto, ciao Sergio! Ah, grazie, ciao, ciao Marco, ciao Anu Giorgio, vi sei così simpatico come potrei, impossibile, impossibile Impossibile, impossibile Come va Sergio, bene? Tutto bene, grazie, voi? Tutto bene, alla grande Bene, 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 siamo qua che mettiamo gli ultimi regalini sotto l'albero Sì, a proposito di regalini, Sergio, Provenzano deve farti una domanda importante Ma smettila, no, vorremmo sapere anche da adesso, ma quali sono, diciamo, cosa vorresti realizzare nel 2013? Allora, a livello, diciamo, lavorativo vorrei sempre migliorarmi, sempre di più Quindi dai, uscire sempre di più a livello discografico, insomma, in varie labels magari, chissà, sempre più importanti Quindi magari fare anche collaborazioni con artisti internazionali, come ho già fatto anche in passato Però dai, diciamo, la scia è quella del migliorarsi sempre di più a livello discografico Bello, bello, è più o meno lo stesso augurio che si sono fatti tutti i tuoi colleghi che mi hanno sentito fino adesso È più o meno, insomma, siamo sempre A livello personale, invece? A livello personale, guarda, sono molto sereno Un periodo serenissimo, sia a livello personale piuttosto che economico Sto veramente sereno, ecco, quindi nulla di che Alla grande, quindi dai, Manu, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Sergio Che si chiama Ready to Rock, giusto? Esattamente, esattamente, che sta facendo molto bene, sono molto contento Piacciamo molti i miei colleghi e quindi avanti così Alla grande A posto, tanti auguri, Sergio Mauri, un bacione Grazie a voi, ciao Amen, ciao Mauro Tanti auguri a tutti Ciao, ciao, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti